Inizia il prossimo 16 novembre con il Don Giovanni di Mozart, la stagione concertistica al Teatro Pirandello promossa in collaborazione con il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Fino al 17 maggio si alterneranno artisti di fama internazionale e giovani talenti del Conservatorio, con un mix di generi musicali che spazia dalla lirica al jazz, dal classico al moderno. Il presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti, commenta che il Teatro Pirandello arricchisce sempre di più la propria offerta culturale. Due importanti e prestigiose istituzioni culturali, Teatro Pirandello e Conservatorio Toscanini, uniscono le proprie forze, come già avvenuto nel recente passato. E' il modo in cui il Teatro Pirandello e il Conservatorio Arturo Toscanini si proiettano verso Agrigento 2025, con una vetrina speciale per l'eccellenza del nostro territorio e non solo. Il Teatro Pirandello arricchisce sempre di più la propria offerta culturale e oggi lo fa presentando la stagione concertistica 2024-2025, che è stata ideata e condivisa col Conservatorio Toscanini di Ribera. Quindi due importanti e prestigiose istituzioni culturali, Teatro Pirandello da una parte, Conservatorio Toscanini dall'altra, che uniscono le proprie forze. E che lo fanno già anche in virtù di un recente passato, perché sin dall'inseriamento di questa governance è stato instaurato un rapporto di collaborazione con il Conservatorio Toscanini. Alla luce del grande successo di critica e di pubblico che abbiamo riscontrato, pochi mesi addietro, come sapete, abbiamo stipulato una convenzione ben più corposa e articolata, che prevede, tra le altre cose, l'organizzazione di una stagione concertistica. Questo è il modo in cui Teatro Pirandello e Conservatorio Toscanini si proiettano verso Agrigento Capitale della Cultura 2025 e 2025. Un cartellone molto variegato anche qui, si va dalla lirica alla classica, al jazz e al pop. Inizierà il sabato 16 novembre con il Don Giovanni di Mozart. Il dicembre sarà dedicato al jazz e al pop. Ci sarà una serata in cui l'orchestra del Toscanini si esibirà insieme alla cantante pop jazz Daria Biancardi. E poi nel 2025 ancora eventi di altissimo livello, altissimo profilo. Penso al concerto insieme al grande pianista maestro Enrico Pieranunzi, un jazzista di fama internazionale. Avremo il piacere di vedere esibire al Teatro Pirandello l'orchestra sinfonica del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Insomma, tanta roba con cui queste due istituzioni culturali presentano questa offerta e fanno in modo che, sfruttando la coincidenza di Agrigento Capitale della Cultura, le eccellenze del nostro territorio, e non solo del territorio, possano godere di questa speciale vetrina.